Ancora oggi la tubercolosi colpisce ogni anno 9 milioni di persone nel mondo e i casi in Italia sono ben 5 mila. Questo dato sottolinea come ci sia ancora molto da fare, soprattutto nelle comunità più povere e vulnerabili. La comparsa di fattori di rischio sempre più numerosi e tra questi la diffusione della povertà, soprattutto tra gli anziani, costringono a mantenere viva l'attenzione verso una malattia che continua ad essere un'emergenza globale. In molti anni ci siamo illusi che la tubercolosi fosse una malattia del passato, una malattia che poteva essere stata sconfitta dai grossi interventi che ci sono stati nella prima parte del secolo scorso. Invece ci si è trovati, nell'epoca della globalizzazione, con una presenza di casi anche nei paesi occidentali. Si considerava che fosse una malattia legata esclusivamente alla povertà e quindi relegata ad alcune società. Il grande allarme c'è stato soprattutto negli anni 90 con la fine dell'impero sovietico e con quindi il dissesto di quei sistemi sanitari, essendo dei paesi con un'importante prevalenza di questa malattia, quindi con molti casi, venendo meno sistema sanitario i pazienti sono trovati senza aiuto, senza farmaci e quindi l'epidemia si è moltiplicata. Anche nel 2013, secondo gli ottimi dati OMS, i numeri malati di tubercolosi arrivano a 9 milioni di casi, di cui 1 milione e 300 mila muoiono. Se teniamo conto che muoiono per una malattia che è facilmente diagnosticabile e anche facilmente curabile con pochi euro, si capisce bene che non è un problema di ordine tecnologico, cioè di quello che la scienza può fare, ma è un problema di servizi, di accesso alle strutture sanitarie, quindi è un problema più sociale ed economico, soprattutto nei paesi più poveri. In più si sono verificati i recenti episodi di epidemie sostenute da una tubercolosi resistente ai farmaci, per lo più in anziani che hanno contratto la malattia latente da giovani, ma la sviluppano ora per indebolimento delle difese immunitarie, terapie croniche o alimentazione carente. Accanto al numero di morti, che è comunque sempre impressionante, registriamo anche circa 600 mila casi di soggetti che si ammalano di tubercolosi multiresistenti. Purtroppo questo è un grave problema, non soltanto dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista epidemiologico, perché questi ceppi che diventano multiresistenti e lo diventano soltanto perché vengono trattati scorrettamente con i farmaci, quindi è un prodotto dell'uomo, è colpa nostra se in natura ci sono questi ceppi che sono diventati multiresistenti. Purtroppo pongono grossi problemi di ordine clinico perché spesse volte questi malati muoiono perché non abbiamo più farmaci per poterli trattare. Quando c'è un abbassamento delle difese immunitarie, vuoi per malattia, vedi l'infezione d'HIV, vuoi per malnutrizione, cattiva nutrizione, quindi vuoi situazione di povertà, questa infezione si manifesta, riemerge. Sì, purtroppo l'HIV, la comparsa dell'HIV ha determinato una grande ripresa della malattia tubercolare anche nei paesi occidentali, dove si pensava che fosse ormai superata. È un allarme che risale già alla fine degli anni 90, del secolo scorso, però ancora oggi è estremamente attuale proprio perché l'HIV determinando una immunodeficienza del soggetto colpito può favorire e facilitare molto l'insorgenza della malattia tubercolare. Gli episodi di tubercolosi resistenti ai farmaci, soprattutto se avvengono in ambito scolastico dove vengono colpiti i soggetti più giovani, devono far allarmare e stimolare interventi di prevenzione. Quello che preoccupa però anche in Italia è questa selezione di ceppi multiresistenti e soprattutto di microepidemie che si stanno, come dire, anche moltiplicando soprattutto tutta la popolazione più giovane e questo non è un bel segnale, come si dice, soprattutto quando queste microepidemie sono sostenute da ceppi che sono diventati resistenti ai farmaci. In occasione della giornata mondiale contro la tubercolosi, Medici Senza Frontiere lancia anche in Italia un manifesto da firmare online per chiedere a governi, case farmaceutiche e ricercatori di mobilitarsi urgentemente per cercare nuovi trattamenti, salvare più vite e arginare questa malattia letale. Questo manifesto per la tubercolosi si può trovare sul sito di msf.it. Si richiede di firmare questo manifesto perché è una modalità di sensibilizzazione dell'individuo ma anche nei confronti delle autorità sanitarie e scientifiche dei nostri paesi e di quelle internazionali. Siamo oggi in un momento di portata storica, finalmente dopo oltre 50 anni ci sono dei nuovi farmaci che si affacciano sul mercato mondiale. Combinare questi con i nuovi schemi terapeutici ci consentirebbe di avere dei nuovi protocolli di trattamento che siano più tollerabili per i pazienti, più efficaci e di somministrazione molto più breve. È però necessario che questo avvenga prima possibile e perché avvenga dobbiamo fare una forte pressione, dobbiamo far sentire la nostra voce. Grazie a tutti.